Curcuma, proprietà, usi e controindicazioni. La curcuma fa bene al cervello e al buon umore. La curcuma è considerata una delle spezie più miracolose. Questa spezia, derivata da una pianta originaria del sud-est asiatico, è un ottimo insaporitore delle nostre pietanze, poiché ha un gusto molto fresco e delicato. La curcuma può essere utilizzata in tantissime ricette. È anche un rimedio naturale per la salute di chi la consuma con continuità. Sin dall'antichità è conosciuta infatti non solo come spezia, ma anche come colorante e antinfiammatorio. È prezioso rimedio naturale contro i dolori articolari e l'influenza ed anche per dimagrire. La curcuma rafforza la memoria e migliora l'umore. La curcuma non ha soltanto le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. È un vero toccasana per la memoria. L'uso quotidiano in cucina sarebbe in grado di rafforzare la memoria di adulti di età, che spesso accusano piccole difficoltà a ricordare. Questa pianta sarebbe anche in grado di migliorare l'umore. Questa spezia indiana, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, fa bene alla salute del cervello. Lo rivela uno studio statunitense, condotto da un team di ricercatori dell'Università della California. 40 volontari hanno assunto 90 mg di curcumina per 18 mesi. I risultati nei test di memoria sono migliorati del 28% rispetto a quelli ottenuti all'inizio della ricerca. E non solo, quelli che avevano assunto la curcumina hanno riferito di essere di umore migliore. I benefici della spezia miracolosa. La curcuma ha un'azione analgesica e antinfiammatoria. La curcuma è utilizzata per contrastare i dolori articolari, ma anche nei disturbi a carico del fegato, della mucosa gastrica e dei processi digestivi in genere. Questa preziosa pianta, infatti, ha un'azione coleretica, ovvero stimola la produzione di bile da parte del fegato, e colagoga, ovvero favorisce lo svuotamento della colecisti. È un potente antiossidante e cicatrizzante. Questa pianta può essere infatti usata per trattare problemi dermatologici come eczemi, acne, allopecia, psoriasi, dermatite atopica. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti la curcumina riduce le risposte naturali dell'organismo alle ferite cutanee, ad esempio l'infiammazione e l'ossidazione. È utile contro il diabete e contro il colesterolo cattivo. La curcumina potrebbe inoltre migliorare la resistenza all'insulina, fenomeno che si nota in chi soffre di intolleranza al glucosio, diabete o malattie cardiovascolari. Studi hanno evidenziato un calo di zuccheri nel sangue in soggetti diabetici, un aumento del colesterolo , buono, a scapito di quello , cattivo. In persone con aterosclerosi una diminuzione dei livelli di fibrinogeno nel sangue, con conseguente minor rischio di trombi. Rafforza il sistema immunitario. La curcumina aumenterebbe i livelli di una proteina, che regola la risposta immunitaria innata ed è fondamentale per proteggere l'organismo dall'attacco di virus, funghi e batteri. Potrebbe avere un'azione di rallentamento nei confronti dei tumori. Una delle proprietà più sorprendenti della curcuma è l'effetto antitumorale. Secondo alcuni studi, la carcumina possa influire rallentando lo sviluppo tumorale. Sarebbe in grado di bloccare l'azione di un enzima ritenuto responsabile dello sviluppo di diversi tipi di cancro. Oltre a combattere l'invecchiamento e l'insorgere di tumori, la curcuma ha notevoli proprietà cicatrizzanti. L'applicazione dei rizomi di curcuma su ferite, scottature, punture d'insetto ed ermatiti dona sollievo immediato e velocizza il processo di guarigione. Controindicazioni ed effetti collaterali della curcuma. Per le persone in condizione di buona salute, la curcuma è sicura e senza particolari controindicazioni. Assumere questa spezia regolarmente fa bene. Ma fate sempre attenzione a non esagerare con le dosi. Assumere troppa curcuma potrebbe essere deleterio per l'organismo. Non è consigliabile consumare la curcuma in combinazione con l'assunzione di farmaci per il sangue come l'aspirina, poiché questo potrebbe avere un effetto anticoagulante aggiuntivo e aumentare il rischio di sanguinamento. Le persone che soffrono di calcoli biliari devono astenersi dal consumo di curcuma e curry. Queste specie potrebbero peggiorare il decorso della malattia. Non è raccomandato consumare la curcuma in caso di gravidanza o ulcera gastrica. Consultare sempre il medico in caso di dubbio. È chiaro che non esistono farmaci buoni o cattivi, ma esiste un modo corretto e uno scorretto di assumerli. Prima di iniziare un trattamento e assumere qualsiasi rimedi naturali, è sempre meglio consultare il proprio medico. Grazie a tutti.